Salve, un po' di notizie utili. La popolazione della Thailandia è di 63 milioni di persone. È grande il doppio del Wyoming. Nessuno di voi conosce Stu quanto me. Non vi dico cosa abbiamo combinato perché abbiamo un patto. Ma una cosa posso dirvela. Questo non è il primo matrimonio di Stu. Ci fu una battona di Las Vegas un paio di anni fa... Ok, può bastare ora? Siediti. Un brindisi con me, ragazzi. Sì, vai. E fammi un favore. Portati il mio fratellino Teddy. Questa è un'ottima idea. Porta Teddy. Beh, va bene. Un brindisi. Ce l'hai fatta. Puoi dirlo forte. Salute. Ma che cavolo. Qualcuno ti ha arrasato? No, in alto. Filo paura. Sto in piedi. Ma dove siamo? Ti prenderà un coccolone, ma non è grave. Perché io ho il dente? Questo è un bel... Salve. Un po' di notizie utili. La popolazione della Thailandia è di 63 milioni di persone. È grande il doppio del Wyoming. Nessuno di voi conoscesse tu quanto me. Non vi dico cosa abbiamo combinato perché abbiamo un patto. Ma una cosa posso dirvela. Questo non è il primo matrimonio di Stu. Ci fu una battona di Las Vegas un paio di anni fa... Ok, può bastare ora? Siediti. Un brindisi con me, ragazzi. Sì, vai. E fammi un favore. Portati il mio fratellino Teddy. Questa è un'ottima idea. Portati a Teddy. Ne va bene. Un brindisi. Ce l'hai fatta. Puoi dirlo forte. Salute. Ma che cavolo... Qualcuno ti ha arrasato? No, in alto. Fino a paura. Sto in piedi. Abbiamo... Ma dove siamo? Ti prenderà un cocolone, ma non è grave. Perché io ho il dente? Questo è un vero baguaggio! Che cavolo hai fatto? Mi hai dato i ruffis? No, non ho fatto niente. Una scimmietta! Dove siete finiti? Non lo so, ci siamo svegliati in una città. Con voi, lo cercano da stamattina. Non ci posso credere, ci siamo ricascati. Il fratello di Lore non si trova. Non possiamo tornare senza Teddy. Che sballo queste feste! Io volevo un brunch di addio al celimato! Ciao! E che ci fai tu qui? È il mio accompagnatore. Una notte da paura, fracetti! Controllate le tasche. Cercate indizi. Monastero di Qingmei. Non ricordo niente di tutto questo. Cos'è? Un ristorante cinese? Dove diavolo siete? Oh my God! Arrare! La città della squalare! Tira dentro la sebbia! È troppo forte! Precetti, state spessi! No! Oddio, oddio! E che succede? Ehi ragazzi, guardate. Alan, smettila! Quando una scimmia mordicchia un pisallo fa ridere in qualsiasi link.